Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è il solo money glitch Il glitch dei soldi da fare da soli Quello con il bunker e la BMX Ed è ancora funzionante Contrariamente a quello che dice qualcuno Anche sul canale ho letto E' pacciato, è pacciato Se permettono pure di scrivere sotto ai commenti di altra gente che chiede E' pacciato Se siete incapaci a fare i glitch Ripeto, non li fate Allora, per fare questo glitch abbiamo bisogno Di un'auto dentro il bunker Scusate, quest'auto deve stare dentro al com La tirate fuori e la mettete dove l'ho messa io ragazzi Dopodiché prendete un aricottero E vi dirigete alla base operativa E ragazzi, intanto che andiamo alla base operativa Apro e chiudo una parentesi Innanzitutto voglio chiedere scusa a tutte quelle persone che si sono iscritte al gruppo Telegram Ieri Che avevamo lanciato questa collaborazione Tra pari youtuber Ma purtroppo questo progetto si è dovuto interrompere Non per colpa nostra Ma a causa di un figlio di tanti padri Che gli piace giocare E quindi Abbiamo dovuto interrompere questa cosa E' un figlio di tanti padri Che l'omogeneizzato Se non è cotto come dice lui Non lo mangia E quindi poi piange E automaticamente Ha fatto le sue cazzate Comunque Chiedo ancora scusa A tutti quanti gli iscritti Che si sono iscritti a quel gruppo Telegram Mi dispiace Sinceramente Per tutto questo Per tutto quello che avete dovuto Leggere nel gruppo O vedere nel gruppo Però purtroppo La vita è così E' fatta di gente de merda E quindi Automaticamente Quello è E quello ce devono tenere Insomma no Purtroppo de merda ce n'è tanta Sulla faccia della terra E automaticamente E' questo Quindi Auguri figlio di tanti padri Complimenti E buona vita Buona vita per te Ragazzi Continuiamo al glitch Chiudo la parentesi qui E finisce la storia Non mi commentate neanche Chi è e chi non è Perché E' fuori luogo Comunque sia Entriamo nella nostra base operativa Ragazzi Dove abbiamo la BMX E Prendiamo questa BMX E ci dirigiamo Verso il nostro dormitorio Il glitch è come sempre Ragazzi Ne più e ne meno Io mi rivolgo A qualcuno Che veramente Se permette De commentare Al posto mio Di dire Ad altri utenti No Non funziona E' pacciato Cioè Regà O dico io Se è pacciato o meno Sono io Quello che fa il glitch So io Che lo sta a fare il glitch Però dico io Se è pacciato Quindi vi mettete Vicino al letto Premete Freccia destra E R2 Ovviamente Quando siete nella base Ragazzi Non accelerate con R2 Ma andate avanti Con il triangolo Salite sull'elicottero Bene Tornate al bunker E andremo A fare L'ultimo passaggio Ragazzi A me Piacerebbe Fare Altre cose Sul canale Però Vedo che Proprio Non Non è possibile Cioè Il fatto è Che se io Facessi altre cose Faccio altre cose Sul canale Oltre ai glitch Di soldi Tanto state sempre lì A commentare Pure su un altro video Degli outfit Ma funziona Allora Sono costretto Ogni volta A far vedere Se questi glitch Funzionano Però sappiate Che sta pacchia Prima o poi Finirà Perché Maximir Se sta rompendo i coglioni Capito Mi sto rompendo Il cazzo E Come ho già detto ieri Prima o poi Mi costringerete O a togliere i commenti O A bannare Dal canale La parola Pacciato Le parole Funzionano ancora E cazzate Mi sono stufato Mi sono stufato Proprio Anche De sta lì A riportare Sempre Lo stesso glitch Cioè Proprio le palle Piene Ragazzi Le palle Piene Ve fa un errore Oddio Non funziona Oddio Questo Oddio Quello Ma andatevene al parchetto Giocate a pallone Andate a cacciare Formiche Cercate le formiche Per terra Ammazzatele Anzi no Non l'ammazzate Va Quelle pure C'hanno il diritto De vivere Sicuramente Più di tanta gente Comunque sia Ragazzi Una volta che siete Dentro al bunker Vedete che l'auto Ha cambiato Targa E Salite sull'auto La salvate Nel com Uscite dal com E ripetete il glitch Il glitch E' semplicissimo E' veramente Una cazzata Facile Facile Il glitch Di ieri Funziona ancora Ragazzi Quindi Non so come dirvelo Io Non so veramente Come dirvelo Una volta fatto ciò Riuscite dal com Vi mettete fuori Vi mettete Con l'auto E andate a ripetere il glitch Prendete il vostro Pelle di coltterino Tornate alla base operativa E rifate il tutto Ragazzi Riuscite con la BMX E rifate il tutto Io adesso Qui questo video Come al solito Ve l'ho lasciato Integrale Non l'ho tagliato Non l'ho velocizzato Vi faccio vedere La data e l'ora In maniera tale Che ci capiamo Come sempre Del resto Perché Per Farvi capire le cose Questo penso Che sia l'ultimo L'unico Non l'ultimo L'unico sistema Farvi vedere la data e l'ora E lasciarvi i video Integrati Perché se no Non capite Me la prendo solo Con alcune persone Non con tutti Comunque Detto questo ragazzi Un saluto a tutti Al prossimo video Ciao a tutti No mercy Ciao a tutti Grazie per la visione!